Una location prestigiosa come il castello in cui hanno trovato spazio espositivo 47 case editrici con le loro ultime novità librarie. Durante la cerimonia di apertura sono stati assegnati vari riconoscimenti, premio editore a Largo Libro, premio autore a Geppino D'Amico, premio giornalismo a Clodomiro Tarsia e premio speciale cultura ad Alfonso Andrea. Molto soddisfatto l'ideatore della rassegna Genaro Malzone che ha voluto ringraziare l'amministrazione comunale per aver messo a disposizione il castello, il sindaco Luisa Maiuri ha ribadito l'importanza del libro e della sua diffusione. Nell'intervento dell'architetto Ianni e giornalista, che da sempre collabora alla manifestazione, si è rimarcata l'ampia presenza delle case editrici e l'importanza di autorevoli scrittori che ogni sera presenteranno un libro fino alla fine di agosto. L'interessante serata è stata condotta dal responsabile dell'Ufficio Turismo e Cultura Enrico Nicoletta. Un po' c'èo